raffaello ossola opposti 2 commento critico a cura di giancarlo bonomo voce narrante raffaella ferrari questo dipinto di raffaello ossola uno dei più significativi artisti svizzeri contemporanei appartiene ad una serie di opere simboliche dedicate alle finestre sull'infinito suo tipico stilema espressivo nella fusione di ricercatezza architettonica e forma libera evanescente quasi informale qui il pittore pone un confronto di opposti che pure interagiscono per complementarietà da una parte la dimensione terrena razionale rappresentata dalla finestra perfettamente realizzata ed inquadrata nelle linee di scansione prospettica dall'altra lo spicchio di cielo indefinibile col movimento di nubi che evoca la perenne mutazione dell'universo con le sue incommensurabili leggi un albero della vita affolta chioma dal fusto possente ed articolato fa da corona la scena richiamando gli arcaici insegnamenti orientali che identificano le nostre origini o meglio le nostre radici proprio nell'immensità del cielo grazie a tutti Grazie a tutti.